Dal coronavirus in questo 2020, che sarà chiaramente un punto fermo nella storia, sarà ricordato per sempre e ci cambierà, ci sta cambiando, ci cambierà, e cambierà anche il calcio, cambierà anche il calcio, soprattutto cambierà il calcio sicuramente nel momento in cui questo dovesse riprendere a breve, perché credo che vorranno e spero anche che riprendano il campionato e la Champions League, certo, un'atmosfera diversa, magari senza spettatori o con spettatori così selezionati, ma insomma da 1-0 a 10 metri, comunque se si riprende il Napoli può vincere Coppa di Campioni e può arrivare al quarto posto, se si riprende. Se si riprende quello che conterà non sarà più l'aspetto tecnico, non saranno più i 9 punti di 10 di vantaggio o svantaggio, sarà l'aspetto psicologico. certe squadre come l'Atalanta che era la squadra più in forma e mi dispiace per lei però purtroppo non la ritroverà questa forma mai, non potrà mai avere la stessa forma sarebbe un miracolo è impossibile sostanzialmente quindi saranno partite che uno vince una volta e poi perde un'altra non c'è quella non ci sarà mai quella continuità e il Napoli dovesse trovarla dovesse Gattuso riuscire a trasmettere questa una concentrazione insomma il Napoli ce la può fare quindi se si riprende il campionato può arrivare quarto e se si riprende la Champions League il Napoli può vincerla perché tanto per cominciare sempre così c'è una casualità nel senso che può vincere il Napoli può vincere chi ci sa il Manchester no il Manchester è eliminato non mi ricordo più niente no ci sta il Manchester insomma può vincerla chiunque c'è un elemento di casualità che ci fa ben sperare cioè a noi oddio non mi piacerebbe poi vincere diciamo titoli in condizioni così però visto che quindi diciamo io dico che il Napoli può riprendendo il campionato può fare ma soprattutto il quarto posto il quarto posto lo può raggiungere l'obiettivo è quello dell'Atalanta l'Atalanta crollerà comunque anzi mi dispiace proprio per l'Atalanta che rappresenta Bergamo quindi una città purtroppo martoriata però una volta inizio il campionato noi dobbiamo pensare a fare quei punti e arrivare quarti con speranzella quindi noi arriveremo quarti parliamoci chiaramente noi arriveremo quarti e c'è una speranzella per la Champions League giocare a Barcellona in un campo vuoto oppure semi vuoto perché magari appunto con delle distanze eccetera non è la stessa cosa il Napoli a Barcellona vincerà se si gioca a Barcellona in Napoli vincerà sicuro comunque o passerà il turno però vedete poi dice sì ma io evidentemente il calcio io sinceramente non sto proprio seguendo qualcuno mi ha chiesto perché non parli di Cavani perché Cavani non torna al Napoli perché si potrebbe riprendere ma Cavani io so con i capelli lunghi sarà che non può andare ma anche dal barbire sarà giusto a qualche parte cioè voglio dire oramai e non devi parlare di Cavani che sono 30 anni che ogni anno Cavani 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 non farci scappare Mertens non farci scappare Mertens perché perché pare che comunque tutto si riordina solamente se si ritorna in campo ma è un momento di confusione totale e comunque le cose più importanti di questo periodo ripeto fino a che non inizia eventualmente il campionato le cose importanti sono comunque altre e sinceramente stiamo vivendo un periodo incredibile da reclusi anche se voi state in Italia io sto in Inghilterra e ho la fortuna se la sfrutto bene di non essere recluso nel senso che probabilmente è criticabile la scelta uno qua può escire può uscire può andare a facinarsi può andare nei parchi anche se teoricamente devono stare a casa i negozi sono chiusi la fabbrica è chiusa però vedete secondo me quello che non riesco a capire parlando del coronavirus che oramai è la cosa più importante io non mi faccio capace di questi dati è vero che stiamo scendendo la curva sta scendendo ma è possibile mai che da più di un mese o un mese che hanno chiuso completamente le persone in casa è vero che sta scendendo è vero che non non sta esplodendo però dico è possibile mai che anche stasera ci sono 4-5 mila contagiati e questi 4 mila contagiati sono comunque poi la punta di un iceberg se stanno 5 mila saranno 50 mila 100 mila cioè voglio dire questi contagiati mi devono spiegare perché si sono contagiati se stanno chiusi in casa hanno un mese questi casi perché si sono contagiati io voglio capire qualche cosa ma tu una settimana fa però per essere oggi malato una settimana fa ti sei contagiato dove stavi dove stavi che ti sei contagiato migliaia e migliaia e migliaia che si continuano a contagiare e io l'idea mia la so quale io dico che si contagiano perché vanno nel posto più contagioso che c'è tutti quanti ci vanno nel supermercato il supermercato è una bomba ora io non dico aboliti i supermercati non mangiate non è vero dovete avrebbero dovuto fare qualcosa per i supermercati perché questa situazione in cui la gente va ogni giorno al supermercato si fa la fila sta così poi tra la sainte poi mentre negli insomma uno va al supermercato sta pigliando una cosa è nata la mano sotto pigliando una cosa poi si scontra con un carrello una cosa parlano fanno no 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 i supermercati sono una bomba di infezione è l'unica cosa tutte queste migliaia di persone se stanno a casa vanno solo al supermercato devo ritenere che soltanto al supermercato si possano contagiare ecco poi per esempio non riesco a capire per esempio perché ecco ho letto che c'era la richiesta c'è fate fate fare le cose da asporto fate preparare il cibo da asporto perché noi siamo rovinati ma non solo è una cosa giusta in Inghilterra si fa ma perché che ci voleva anzi anzi le persone invece andavano al supermercato se facevano venire pizza a casa e facevano e magari c'era meno affollamento ai supermercati lavoravano i pizzaioli e comunque gli altri ristoratori qual era il problema qui si arriva qual è un problema che gli devi devi contattare poi il cliente quando apre la porta che fai così vai insomma non è che maschere cose c'è butta e pizza così è un problema hanno sbagliato hanno sbagliato dovevano fare utilizzare le pizze a casa andavano benissimo pizze ogni sera e invece andavano al supermercato qualcosa non va secondo me hanno sprecato molto di questo mese di lockdown perché migliaia e migliaia ancora ancora e questo andrà a lungo andrà ancora per le lunghe perché domani tutto qua domani è pace benissimo si dice non uscite non andate al parco e che significa al parco andavano meglio perché tu pigliavi facevi una corsetta andavano fare una corsetta andavano da parte invece questa mucchiata dentro ai supermercati tutti o migliaia di persone che devono mangiare è là che dovevate intervenire là che dovevate intervenire dovete trovare inventare una cosa cibi online a tutti quanti ma sul serio perché quello è l'unico contagio che ci sa vero chi ci sa comunque questa è una divagazione che sul coronavirus che sarà insomma praticamente il nostro il nostro flaggello e che speriamo continui speriamo si risolva più presto va bene arrivederci buona Pasqua